Per me non cambia nulla, ma non solo per i libri, vale per i trasporti, vale per i rifiuti, vale per il sociale, vale per tutto. Noi siamo per la cooperazione istituzionale sempre, anche con questo governo che sta per nascere, che è il più lontano politicamente dalle nostre idee, perché la Lega per noi è completamente antitetica rispetto a qualsiasi idea politica, ma io non vedo l'ora di cooperare con il nuovo governo, così come non vedo l'ora di stringere cooperazioni istituzionali con i governi regionali. Il problema non è mai nostro, questo voglio che sia ben chiaro, io anche stasera se ci dovessimo mettere una stanzina là e parlare dei problemi nella città lo farei subito, però il problema non è mio. Quindi da quel giorno c'è stato nessuno? Nessuno.